Primo turno, Dosso contro Lidia. Tanto mi mancava vice ragazzi. Quanti climax hai già triggato? Ho cambiato un climax. Ho triggato uno e ho triggato uno. Grande, Leo. Buongiorno. Il climax hai triggato, Leo, non va. Allora neanche hai stoccato uno. Veramente, non farò la roba qua. Allora, lei fa benissimo. Ho triggato con un backup. Da tre. Per par con D, cioè. Giustamente. Pesco. Che vuoi? Pesco. Due. Non fa bene. Per ogni climax tuttora. Non fa bene un caramazzo. Forte. Due. Tu sei mille, come ti vedo? Sì, sì. Sei da Brems. Più mille e mezzo mai. No, questa non c'ho la cinta. 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 Cioè, se vuoi chiedere qua. No, 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 no. Macino due. Se c'è un climax ti macino la prima. Ti la metto in cima. Ti macino la prima. Eh, cavolo. Mamma, che forte! Ehm. Ah, no, è un altro effetto che non ho detto. Eh, no. Tu vuoi stop. No, no. E poi fa frevare. Rango per dentro la mia mano. Ah, sono contento. Sì, sì. No, no, no. No, no. No, questo è un altro effetto di questo. No, no. No, questo è un altro effetto di questo. No, no. No, no. Ok, sale peggio. Buongo per uno. Quanto hai mille? Sì. Uno? Guarda della деньги di e-card. Vai. Giusto. Anche te lo vuole? Sì. Mira... Avete inqu attraction e queste 노�rò? Grazie. 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 Sì, grazie. 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 Pieno pesco, poi in stop. Visto, in stop, siفugano. E ecco l'atta, che ci lo ha prima se è pezzo pesco sca... Eh, pesco... No, se è un pezzo o l'evento 1-1 del po' di miglio aggiungo la mano. Dritto di qua, ci lo ha prima, e la 1-2... una due una dritta giurlo a prima la lunga lei è 6.000 5.500 6.500 la tre non c'è un cazzo no, è qua è meno va bene scusare no Grazie. 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 faccio una prima sapere tuttora posso portare 500 non voglio andare non sei prima non sei prima e la risposta è diversa posso scarcare una carta e farmi imbalzare in mano una carta trova stessa pombo di qui quindi adesso queste ne sono 7 no, non rischia un po' pieno schianto qua chissà cosa vorrei dire che schifo sono salito più livello wow ciao 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 Grazie. 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 il backup che mi hai visto prendere che spara 1,5 metri quindi arriverei con anche l'acta 14,5 15,5 metri Tra prima sono tutti i mazzi nel cesso e sono tutti i mazzi dopo un paio di due miliardi. Bene, ci sono tre. Uno, due. Faccio un secondo. Due. Dai. Allora, il mille se ho almeno due. No, non so che i miei personaggi sono music. quando entra quando festa se pari posso fare un ucineretto e l'assist per cipreschi e l'anima il mio set quando entra quando festa se cancelli ma c'è una prima base per ogni 11 con 2 posso sparare 1 con 3 posso sparare 1 quindi il totale è re dopo la parola che faccio un santo su un bambino Grazie. Faccio una brainstorm che è tuttora, attivato un hack, lei si prende 500 per ogni pezzo, e un po' sotto il 500 con lei, e combo climax, si può incendere 5 fino a fine turno dell'oppo e mantiene l'abilità che quando attacca il pezzo davanti a lei squaro 1. Attacco prima di qua per 3, 3, attacco di qua per 3, 8, C'è un gratuito, è un gratuito, è un gratuito, è un gratuito, è un gratuito. Ok, è il gratuito. Allora, se hai fatto, mi sei fatto. Mi lascia qualche cosa. Allora, il gold prendo più 1000, se ne ha verso un nuovo stock, è un incesto. ok bravo 2 4 Prima è arrivato meno 5 mila in totale, quindi ero una 10 e mezzo, sono una 5 e mezzo. La somma dei livelli sono 6, quindi si può imparire 2 mila, sono 11, 12 e mezzo, 13 e mezzo. Grazie. Grazie. Per ora mi hai messo un livello 3, quindi sono ritorno 11, 12 e mezzo. Grazie. 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 Buona volta. Porco Dio!